Don Paolo Cavagna, oggi è un giorno importante per Cosasca, si chiudono le cerimonie per il cinquantesimo con l'inaugurazione di queste due pale d'altare e inoltre lei ha fatto il punto dei lavori di ristrutturazione della chiesa. Sì, dall'anno scorso all'inizio di questo cinquantesimo erano assolutamente implorogabili dei lavori di ristrutturazione del tetto in Alvesia, abbiamo rifatto completamente la copertura con tutta la lattoneria, abbiamo dovuto intervenire anche sulle quattro vetrate che erano assolutamente da cambiare, già con i montecchi pontati abbiamo dovuto anche intervenire sulla tetteggiatura esterna, abbiamo risistemato anche i balconi e rifatto completamente l'impianto elettrico di ristrutturazione della chiesa. Questo è stato possibile anche grazie a un tesoretto che avevate ereditato, possiamo dire? Certo, era presente un tesoretto... Di quanto? Il tesoretto era il 170.000, 172, di cui 150.000 erano una donazione appunto a buttare gli anni addietro.